Il suo governo intende prevedere un contributo di solidarietà a carico del settore bancario e destinare aiuti per famiglie e imprese in difficoltà sui mutui. Io credo che sia necessario partire, per esempio, il caso del super bonus. Perché la norma, la norma che nasceva da un presupposto condivisibile, come mettere in moto l'edilizia, mettere in moto l'economia, la misura ha generato oneri privi di copertura finanziaria per decine di miliardi di euro. Presidente Meloni, non si offenda, ma io credo che lei non abbia capito la domanda, semplicemente. Io rappresento un gruppo che porta delle soluzioni. Noi abbiamo, e ce l'abbiamo qui, la soluzione ce l'abbiamo qui. Non c'è nemmeno bisogno di andarla a cercare come piace a voi nel globo terraqueo. Guardate, è qui! Ed è... Concluda. Ed è una legge per istituire un fondo che aiuti i cittadini sull'aumento delle rate dei mutui, con dei fondi, con dei soldi, presi direttamente dagli extra profitti bancari. è lei che governa il paese ed è lei che dovrebbe intervenire per contrastare il caro vita e contenere i mutui e gli affitti balzati alle stelle. Siete a corto di idee? Bene, prendete i soldi dagli extra profitti e utilizzateli contro il caro vita. Si verrà a contare un 40% di prelievo dagli extra profitti multimiliardari delle banche. Grazie a tutti.